Doppio passaporto entro un anno, lo ha annunciato a Bolzano il parlamentare della FPÖ, Werner Neubauer, mostrando il programma del nuovo governo austriaco guidato da Kurz, e ovviamente esulta la destra tedesca. Se Roma e Bruxelles si preoccupano, loro gioiscono, sono gli esponenti del centrodestra sottirolese, dalla Südtiroler Freiheit ai Freiheitlichen, degli ex consiglieri Svopé alla Heimatbund. A un passo dal sogno del doppio passaporto, un'occasione storica l'hanno definita, con cui finalmente il nuovo governo austriaco, guidato da Kurz e Strache, chiuderà una ferita aperta per loro da cento anni esatti. Ora, come conferma il portavoce dell'FPE per la questione altoatesina, il punto è ufficialmente inserito nel programma di governo. I dettagli saranno stabiliti da un'apposita commissione. La richiesta del doppio passaporto potrà essere presentata da chi si è dichiarato tedesco e dai suoi figli e sarà gratis. In futuro, inoltre, gli atleti altoatesini, che lo vorranno, potranno gareggiare per la nazionale austriaca. No, la doppia cittadinanza non sarà di certo un flop. Ma la doppia cittadinanza varrà soltanto per i gruppi linguistici tedesco e ladino, niente da fare per gli altoatesini italiani e nemmeno per i trentini. Il nuovo governo ha scelto questo concetto che era già dentro la legge dell'Austria. C'è una legge di parificazione per i sudtirolesi di madrelingua tedesca e ladina perché l'Austria ha la tutela solo per i sudtirolesi di madrelingua tedesca e ladina e questo vuole adesso anche, con questa conseguenza, dare la possibilità alla cittadinanza a questi sudtirolesi. Una data ideale sarebbe il 2019, dove saranno poi cent'anni che siamo staccati dall'Austria. Ma intanto le polemiche continuano. Per il ministro Alfano, quella del doppio passaporto è una discussione da affrontare con delicatezza, mentre per il presidente del Parlamento europeo, Tajani, la stagione dei nazionalismi è chiusa ed è in questo senso che prende posizione l'SVP. In un comunicato, Lobman a Hammer parla di una mossa da intendere in senso europeo e non secessionista ed ora anche la presa di posizione del PD. Il segretario Alessandro Uber, lo vedete su Facebook, scrive «Annunci gravi e irrealizzabili, il governo austriaco smentisca». Si smetta immediatamente di fomentare la divisione dei cittadini dell'Alto Adige e la classificazione che sa di segregazione etnica.